In un periodo così difficile e complesso, in un periodo dove c'è molta conflittualità, in un periodo dove c'è molta litigiosità, in un periodo dove fa molto più rumore, un ramo che si spacca in una foresta che cresce, in un periodo così violento anche di adepicamento. Vediamo, andando ogni giorno sui social, questi esempi che andiamo a premiare oggi diventano ancora più importanti perché abbiamo tutta una speranza, abbiamo una speranza che questi esempi tornino ad essere quelle stelle polari che la nostra comunità, di cui la nostra comunità ha tanto bisogno. Un'imitante affetto, un applauso di scommettazione, un applauso di scommettazione. In fiocca e vita, divertimento tutta la vita! Grazie! 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 Grazie!